Promuovere e consolidare senza soluzione di continuità la cultura della prevenzione della sicurezza stradale, ricordando giovani vite spezzate, strappate all'affetto dei propri cari. A Barletta, alla Sala Rossa del Castello, ricordando Jacopo e Mauro, si parla di Guida Consapevole, del bollettino di guerra degli incidenti stradali, un incontro organizzato dal Centro Studi Barletta in Rosa, dall'amministrazione comunale, con gli interventi di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, del Pronto Soccorso, della Croce Rossa, dell'Avis e soprattutto dei familiari di Jacopo e Mauro, poco più che ventenni hanno perso la vita il 23 settembre del 2016, ma il loro cuore continua a battere con le testimonianze di amici e conoscenti. Giuseppe Di Bari, papà di Jacopo e anima dell'iniziativa, intende attivarsi concretamente per fermare la mattanza. Noi siamo ancora i suoi genitori e quindi vorremmo appunto dargli voce ancora e parlare a questi giovani, i nostri cari giovani, la nostra motivazione di vita e appunto sollecitando le loro coscienze, quindi portandoli a maturare che in questo cammino, in questo progetto che stiamo presentando oggi, in questo convegno appunto vogliamo dire attenzione ragazzi, questo strumento di vita potrebbe anche essere ahimè uno strumento di morte. Ecco c'è sempre tanta emozione e tanto dolore quando ci sono questi eventi, però diciamo che i genitori cercano di continuare l'opera di prevenzione e di sensibilizzazione che voi fate quotidianamente. È cambiato qualcosa in questi ultimi anni? Allora le statistiche parlano chiaro, anche se siamo di fronte sempre a cifre drammatiche, però vi è un calo di incidenti e un calo anche delle conseguenze degli incidenti. Ovviamente questo in relazione a tutta un'attività che a livello nazionale si sta facendo, sia per l'attività di prevenzione attraverso manifestazioni come queste per sensibilizzare sempre di più gli utenti della strada e sia anche come repressione, perché ci sono sempre sistemi più sofisticati per cercare di combattere quelli che sono gli abusi della velocità e gli abusi di sostanze che alterano la possibilità di condurre in maniera adeguata i mezzi. Il dolore è infinito in situazioni del genere. Immaginare la perdita di un figlio, eppure continuano a vivere questi ragazzi. Ecco la concretezza di questi incontri, soprattutto lei è una docente, quindi ha maggior ragione. I ragazzi è una espressione bellissima, continuano a vivere solo attraverso delle testimonianze così forti e degli incontri così importanti. Stasera c'è tutta la storia di questi ragazzi, dalla famiglia, agli amici, alla scuola. Stasera ci sarà un legale accanto a noi e mi auguro che alla fine, dopo le testimonianze di tutti i relatori, possiamo chiedere un'interrogazione parlamentare, una modifica della legge sull'omicidio stradale, che già, devo dire, è molto attenta a salvare la vita dei ragazzi. Però noi chiediamo che ci sia, almeno per un periodo che possa essere sei mesi, una guida assistita. Io direi una guida guidata, non lasciamo i giovani da soli. Infatti, in questo caso, per questo incidente, chi guidava la macchina era una povera ragazza neopatentata. Per cui l'inesperienza e tutta una serie di situazioni portano a questo dramma. Quindi chiediamo una modifica e un'attenzione. E poi soprattutto che parta un reale corso di educazione stradale nelle scuole, già dalle terze medie e delle scuole superiori, per chi si avvicina anche a prendere il patentino, perché il sangue e le lacrime siano soltanto un vecchio ricordo.